Cosa ha pensato quando ha saputo che avrebbero scritto un libro sui lei? Mi sono abbastanza stupito come dicevo perché i libri ne scrivono così pochi. Poi i libri sul teatro sono particolarmente ingrati, difficili da scrivere. Però questo era un libro che si poteva fare perché è partito da una lunghissima intervista che Rabbeto mi ha chiesto. E io durante quell'intervista che lui ha condotto molto bene, molto bene, mi sono potuto allargare molto perché è durata una settimana. E come è nata la collaborazione fra voi due? Per puro caso perché io sono andato all'università di Enna dove lui fa il ricercatore perché mi aveva invitato lì di Borio Termine che era docente lì. Oltre che a Torino. E l'ho conosciuto. Lui si è un po' innamorato di quelle tre o quattro lezioni che io ho fatto e mi ha chiesto di fare questo libro. Io volevo chiedere la crisi in Italia, anche culturale, che c'è in questo periodo. Secondo lei come potrebbe essere risolta? Non lo so perché è un paese così fallimentare. È un paese dove i ladri sono troppi. I fessi sono circa la metà della popolazione e non so come si possa fare. E poi siamo in mano, tutti noi. Voi poi poveraci, voi ragazzi avete un destino terribile. Perché siete nati, vi siete affacciati alla vita in un momento dove c'è da vergognarsi. E quindi io sono molto scettico. Il nostro quadro politico è miserabile. Tutto, eh. Più a destra che a sinistra. Come, almeno questo. Ma è miserabile. E poi avete visto, suppongo, che non è che la letteratura sia ricchissima in Italia. Avete visto che il cinema non è più ricchissimo in Italia. Avete visto che il teatro non è più ricchissimo in Italia. Ricco, dico, abbondante, vitale. Non lo so, non mi sembra che il nostro sia un paese molto attendibile. È un paese in una crisi profonda e piuttosto stupida. Invece la passione sua per il teatro, com'è nata poi la passione per il teatro? Ma, guardi, io non lo so com'è nata perché io ho, pensavo, ci sono nato. Nel senso che io sono milanese, lì c'era il piccolo di Milano che era i suoi primi anni di vita. Io sono del 34, dunque ho fatto in tempo a vedere il 46, 47, i primi, 48, i primi spettacoli del piccolo di Milano, di Streller. E poi la scala, ci andavo molto alla scala, io ho studiato un po' la musica e allora sono andato molto alla scala. Dunque non ho avuto una rivelazione, ci sono nato un po' troppo vicino o un po' troppo dentro. E poi Streller e Grassi, che allora era il direttore organizzativo, era Grassi, il direttore artistico era Streller, mi hanno invitato a Milano, io stavo a Roma all'Accademia d'Arte Drammatica e quando l'ho finita sono andato a Milano e è nata così. Bene, grazie mille. Grazie. Grazie. Grazie.